Ciao, vuoi sapere come convertire, tradurre qualsiasi testo da un libro, da una foto, dal web, da qualsiasi fonte, tradurla e poi stamparla? Ecco, sei nel video giusto, ora sigla e poi vi spiego tutti i passaggi. Eccoci qui, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di uno smartphone, Android o Apple anche, e praticamente una fonte, un libro, in questo farò un esempio di un libro, dove andrò a prendere, è un libro in tedesco, dove andrò a volerò tradurre una pagina in italiano. Come si fa in maniera veloce, istantanea e poi poterlo stampare? Allora, si prende il libro, prendiamo il nostro cellulare, lo disattiviamo, facciamo una foto fatta, chiudiamo il libro, lo mettiamo da una parte, ha fatto la foto di quella pagina. Ora noi andiamo in galleria e troveremo la foto che abbiamo appena fatto. La possiamo, allora, si può fare sia da, questa operazione si può fare sia da cellulare che da computer, però oggi vi faccio vedere anche da computer come è possibile farlo in maniera veloce, perché avendo un monitor più grande sicuramente si riesce a vedere, a essere più pratici e veloci nelle manovre. Comunque, questa operazione potrà essere fatta anche con lo smartphone, vi faccio vedere dopo. Ora, io come trasferisco il file che ho, praticamente la foto che ho fatto della pagina al computer? Semplicemente facendo così. Bisognerà scaricare questo programma, una volta andati sulla galleria, sulla galleria, foto che ci interessa, andiamo su condividi e scarichiamo l'applicazione Send Anywhere dal Play Store o dal Apple Store. A un certo punto ci darà un numero, un codice. Questo codice bisognerà scaricarlo nel nostro computer, PC, Windows o Mac, e richiamarlo e praticamente scrivere il solito codice che abbiamo scritto sul cellulare. 024, andando su Receive, Input Key, 024309. Comunque, se volete sapere come si usa Send Anywhere, nel mio blog c'è anche un post specifico di come utilizzare Send Anywhere. Comunque, una volta scritto il codice corrispondente, facciamo Enter e poi facciamo con questa freccetta giù il download del formato dell'immagine che abbiamo. Abbiamo finito, abbiamo scaricato senza attaccare cavi, cavetti, cavettoni. Abbiamo installato e il cellulare era connesso con la sua rete T, rete da cellulare, non wifi, e il computer era connesso dal wifi di casa. Quindi, anche se sono di due rete separate, si possono passare i file. Detto questo, mettiamo da parte il cellulare e ora andiamo a fare a schermo il resto. Allora, qui possiamo chiudere. Ecco, dove bisogna andare ora? Andiamo sulla cartella, download, e troveremo, dopo vi faccio vedere anche da un testo che ho scaricato dal web, qualsiasi, eh, un testo qualsiasi. Io, questa operazione è stata utile anche per un mio amico che, lui ha un Harley Davidson, doveva smontare un cambio, il cambio del suo chopper, e era tutto in inglese e non riusciva a capire il nome del pezzo, quali pezzi occorrevano per i pezzi da sostituire praticamente. Ho fatto questa operazione, le ho fatto vedere come fare, dalla foto, poi vi faccio vedere se si potrà stampare anche la foto, e accanto c'era la traduzione in italiano di cosa era quel pezzo. Comunque, questa operazione è stata molto utile, comunque, banda alle sciance, continuiamo e andiamo avanti. Siccome ora è un po' brutta così, possiamo anche da computer ridimensionarla. Andiamo su modifica e possiamo, diciamo, renderla più... Poi qui, volendo, si può decidere l'inclinazione, ma andava bene anche prima, vabbè. E una volta trovata la nostra, facciamo salva. E questa è la pagina che abbiamo preso dal libro. Chiudiamo. Che facciamo ora? Chiudiamo. Andiamo sul Google Chrome, apriamo una pagina vuota, così, Google Chrome, e andiamo su Google Lens, qui, Google Lens, e qui ci dirà di trascinare un'immagine o caricala dal computer. Noi la carichiamo, carica un file, e carichiamo la foto che abbiamo trasferito dal cellulare, che poi l'abbiamo modificata. Ecco, qui lui ci darà di diverse cose, però quello che ci interessa a noi è tradurre questa cosa. Andiamo sul traduttore. Andiamo sul traduttore e come per magia ci tradurrà tutto il contenuto di quella foto, di quel testo, nella lingua in italiano che noi abbiamo prescetto. oltretutto la potremmo ascoltare, potremmo ascoltare e una voce ci dirà in italiano la traduzione. Potremmo stamparla, per stampare da Google Chrome, come si fa? Bisogna andare qui sulle righettine qui, andare su stampa. Ora, come vedete, tutto il formato, praticamente il testo tradotto, non è totalmente visibile nella pagina. E siccome lui stampa solo la pagina web che vediamo, per poter ridimensionare il contenuto della pagina bisogna andare su, intanto io lo vabbè, bianco e nero, una copia, andiamo qui e decidiamo la scala. La scala, andando a diminuire la scala, si diminuirà, diciamo, il carattere del testo e potrà essere inserito completamente in una pagina. 6, 6, 6, 7. Lo vedremo fino a quando non sarà visualizzato tutto il testo come il numero della pagina, 62. Una volta che abbiamo, praticamente, abbiamo fatto la scala del testo in maniera tale che entri in una pagina, a quel punto noi, se nel testo, dopo vi faccio vedere una copia, se nel testo c'è un disegno che vogliamo visualizzare, basterà andare su grafica in background e la grafica che sarà presente nel testo, nella foto, sarà visibile, ok? L'intestazione, questa non mi interessa, l'intestazione è l'intestazione del giorno, l'ora, dove abbiamo caricato il file, quindi questo non c'è bisogno. E questo, al momento io non ho una grafica che mi interessi far visualizzare, la posso eliminare, quindi mi farà solo la traduzione del testo. Una volta fatto questo, farò solo stampa. Ora accendo la stampante, la stampante, e che è questa qui, vi consiglio una stampante Epson, questa qui, questo è un modello che vedete qua su, è anche wifi, quindi io dal cellulare potrò stampare direttamente alla stampante, e la stampante dovrà essere accesa sicuramente, questo è un modello home, da casa, però fa anche la scansione, quindi molto, secondo me, ve la consiglio. Nel mio blog, c'è anche come accoppiare il cellulare a questa stampante, e eventualmente, se siete interessati, ci sarà anche l'opzione di acquisto, e c'è un link, se sarete interessati, per poterlo acquistare. Anche le cartucce di ricambio, l'inchiostro di ricambio, io uso quelle compatibili, comprate su Amazon, che con una scelta cifra, non mi ricordo, massimo 25 euro, ci sono tre cambi, e poi ci sarà l'applicazione della Epson, che vi dirà la misurazione del colore, quando sarà quasi finito, vi lampeggerà a parte la stampante, lo potrete sostituire tranquillamente. Tutto questo è nel mio blog, se volete voglia di andarci a vedere, comunque in descrizione, ci metterò tutto, tutto quello che vi dico in questo momento. Ecco, la stampante si è accesa, quindi noi faremo la stampa. E qui basterà cambiare, cambiare in qualsiasi lingua vogliamo convertire il testo, lo riconosce in automatico il testo che è in tedesco, io ho scritto in italiano, ma volendo qui, andando qui, potremmo convertirlo in altre lingue. Ok? Ora, ecco il foglio tradotto, praticamente questa è stata la stampa che uno poi si potrà portare a giro, e controllare col libro o col testo, diciamo, per qualsiasi, con la foto, tradotto nella lingua desiderata, in questo caso in italiano. Ora vi faccio vedere come convertirlo con una foto, una foto che praticamente ci sarà questa foto 1 che dirà questa foto 1 serve a fare questa ipotesi. Ora ho scaricato un'immagine dal web, ora questo lo parcheggio per farvi vedere che ha fatto la stampa e entra tutto il foglio e si legge veramente bene. E vi faccio vedere un'altra cosa. Ora, basterà andare su Carica da computer e io ho scaricato questa immagine che lui, ora io dirò di tradurre, che rileva automaticamente che è in inglese e me lo trasferisce in italiano. Io vi ripeto, lo potrò ascoltare in italiano, mi avrà tradotto quello che ha visto in inglese, me lo avrà tradotto in italiano. Andiamo ugualmente qui in stampa, in stampa, e come vedete qui le grafiche non sono presenti. Per poter far presente delle grafiche devo andare su altre impostazioni, grafica in background, e lui mi farà vedere le grafiche. Ora io è in bianco e nero, ma volendo possiamo metterle a colori e lui sarà, le immagini saranno a colori. Quindi l'immagine corrispondente sarà il significato di quello che ha tradotto nella nostra lingua a cui vogliamo sia tradotta. E ora vabbè, facendo la stampa, mi stamperà, vi faccio vedere, faccio la stampa, tanto l'ho lasciato in bianco e nero, faccio la stampa e ora mi stamperà questa immagine. Questa operazione si potrà fare anche da... Ecco qua. Ora mi ha stampato tutta l'immagine con le immagini corrispondenti. Quindi, se ci fosse un pezzo meccanico, qui ci sarà il pezzo meccanico con la descrizione in italiano e in base alla figura e quindi avremo a disposizione tutto il necessario per capire se ci fossero delle frasi che non si riescono a capire. Ecco, volevo farvi presente di questa cosa. È veramente una cosa praticamente in 30 secondi, in un minuto, una persona si può stampare la traduzione di qualsiasi cosa da testo, libro, foto, in formato nella lingua che uno preferisce. Tutto quello che abbiamo fatto da PC lo possiamo fare anche dal cellulare. Andiamo su... Dopo aver fatto la foto della pagina o aver preso un testo, una foto dal web che vogliamo tradurre perché non riusciamo a tradurla, basterà andare... In questo caso ho fatto la foto del libro, riprendo la solita cosa, andiamo in galleria, prendiamo la foto del libro, la ridimensioniamo un attimino per... la modifichiamo un attimino e la ridimensioniamo. Anche qui ci sarà la possibilità dell'inclinazione ma la lascio come è invariata. Salva. Ecco, avendo fatto questo ora possiamo andare su Google Chrome, apriamo una pagina vuota e andiamo su questa... Diciamo, qui accanto al microfono questa, diciamo, quadratino con questo pallino Google Lens. Qui andiamo su... Scorriamo e andiamo nelle immagini, nell'ultima immagine e lui e noi andremo sulla versione traduci e lui ci tradurrà direttamente sul foglio, sull'immagine. Ok? E da qui noi potremo stamparla dove andiamo su condividi e andiamo sull'applicazione Epson iPrint. Allora, per poter stampare da cellulare inviandolo direttamente alla stampante tutti e due devono essere collegati alla wifi di casa. Quindi io dovrò collegarmi al wifi della mia abitazione e la stampante essere collegata alla solita wifi perché se no non potranno scambiarsi i dati e la stampa non potrà essere effettuata. Una volta fatto questo e che abbiamo trovato qui si può zoomare per stampare di più di meno l'immagine e spostarla dove meglio vogliamo possiamo digitare stampa. La stampa che ha fatto da cellulare qui praticamente stampa direttamente sulla pagina del libro o della foto che abbiamo diciamo che ci interessa che sia convertita tradotta nella lingua preferita. Si legge veramente bene è tutto convertito che dire altro praticamente ora vi dico un'altra cosa che mi sono scordato andando sempre su google lens quando carichiamo un'immagine ipotesi sempre questa potremmo dando dal traduttore selezionare tutto lui mi selezionerà la parola poi andarlo a inserirlo su word ipotesi perché quella parte di test delle volte ci può servire anche per fare un esame per fare un riassunto per fare ora vi faccio vedere andiamo su google word documento nuovo e facciamo ctrl v e lui praticamente ci converte cioè ci trasferisce quello che abbiamo copiato negli appunti e da qui noi ci potremmo aggiungere un'immagine che ne so concludere il riassunto concludere il nostro esame concludere la nostra tesi concludere qualsiasi cosa di ufficio lavoro quello che ci pare è una cosa secondo me molto utile questa applicazione spero di essere stato chiaro di aver chiarito alcune cose che questa applicazione può fare e niente manda le cianci ragazzi spolliciate in su e ciao al prossimo video voglio ripetermi ma è inevitabile non iscriversi e mettere un bel pollicione in su per essere sempre aggiornati ciao ciao